ciao bentornati sul canale bellissima confezione dedicata a dragon ball super non amo i puzzle ma amo dragon ball e quindi vediamo dentro ci sono due due aspetta gira vediamo subito veloci 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 vacca scelta ma quale secondo te è il più bello questo qui con la onda energetica mi piace questo perfetto vediamo chi vince onda ener lo montiamo insieme subito vai butta qua in mezzo ragazzi ci vorrà un po di tempo questa volta via si perdono i pezzi e andiamo la via così allora via facciamo prima eccolo con l'onda energetica comunque si capisce subito questo non è questo ah si si capisce da questo raga questo va sopra da questo pezzo si capisce e si decisamente no non puoi aiutarci ruby si adesso ti facciamo uscire facci finire il video vai aprire la tua la gatta e perché piccolino è super basso ce la puoi fare primo pezzo attaccato ecco qua ci mettiamo di qua secondo pezzo attaccato mi abbasso ancora ok voleva uscire buon per lei e quindi è una e da 3 quindi questo va sicuramente qui questo va sicuramente qui questo va sicuramente qui questo va sicuramente qui ma lo metto io no vai in mezzo così aspetta aspetta mi sa sopra o sotto aspetta questo va sicuramente qui questo si può attaccare quello sotto si può attaccare no aspetta aspetta questo si può attaccare lo attacchiamo anche questo si può attaccare anche questo più complicato invece siamo stati veloci molto molto non lo so raga molto easy carino però si attacca anche bene i pezzi si esatto devo dire che come puzzle che abbiamo trovato tra ovetti patatine questo è forse il migliore si è vero anche perché non lo vediamo poi è anche bello lucido distruggilo giuste manacce ecco così si vede bene quindi volete un puzzle di dragon ball lo trovate nelle patatine quindi vi ricordo di iscrivervi al canale metterlo like o dividere adesso sei stata abbassata 30 secondi mille anni vabbè però raga è veramente bello complimenti alla che è? salata di prezioni salata di prezioni e quindi vi ricordo di iscrivervi al canale mettere il like o dividere il commentare scherzare la campanella per essere giocati a tutti i video e ci vediamo quando? e noi ti ho tolto mezza battuta lo so ce la puoi fare e noi vi salutiamoci e vediamo al prossimo video ciao brava ce l'hai fatta